Uno, via! Uno, via! Sì, il tempo è bello, le iscrizioni sono state numerose e sarà sicuramente una bella giornata di sport non competitivo che fa anche del bene alle associazioni del paese. Come sempre partecipi a nome dell'amministrazione? Partecipo volentieri perché ci va anche qualcuno che corra oltre a quelli che supervisionano. Come sempre ricavato andrà in beneficenza? Assolutamente sì, l'intero ricavato verrà donato all'Associazione Nazionale Carabinieri e all'Associazione Nazionale Vigile del Fuoco che oltretutto ci hanno supportato molto per l'iniziativa e svolgeranno servizio di controllo lungo tutto il percorso della gara. Anche quest'anno una buona partecipazione? Assolutamente sì, io vi dico solo che non abbiamo ancora i conteggi definitivi però 400 moduli di iscrizioni sono già finiti e ne abbiamo dovuti fare degli altri. Quindi in realtà sicuramente il risultato è positivo saranno tanti soldi raccolti ed è buona la partecipazione quindi bellissimo segnale. Una bella manifestazione organizzata grazie al dono per Castellamonte. Sì, siamo riusciti finalmente a mettere in piedi qualcosa che come potete vedere è una vera festa del paese. Abbiamo dovuto rinviare il 3 ottobre perché il tempo era veramente brutto ma oggi penso che tutto volge al meglio quindi siamo tanti, siamo tutti entusiasti sarà una bella festa del paese e poi l'importante è divertirsi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!